è stata una parata vedendo il risultato finale sicuramente determinante sono contento ma al di là della mia parata il merito veramente oggi va tutta la squadra che quando è stato a soffrire ha sofferto tutti insieme oggi era molto importante portarla a casa sul gol subito che cosa ci sta una mancanza di un'azione oppure stavo bravo l'attaccante non si è riuscito a capire molto bene sul gol subito la vogliamo rivedere però secondo me non abbiamo non ci siamo messi come dovevamo metterci su quel tipo di punizione lì eravamo messi male male in centro aria e siamo andati tutti in modo sbagliato ecco sicuramente ci dobbiamo lavorare e ci lavoreremo sicuramente con il mister in settimana sartor complimenti per il gol raccontaci un po la dinamica di tutte e due della squadra che sta lavorando bene la squadra sta lavorando bene c'è già un'intesa con con i suoi compagni di davanti sì siamo siamo una pera squadra oggi c'è una squadra che si conosce da pochi giorni c'è un gruppo fantastico siamo giovani penso che possiamo ancora dare tanti sì 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 è importante per un attaccante sempre segnare più quando la squadra vince quindi sono veramente contento per questi tre punti che hanno rimasto qua in casa un girone tosto sono squadra forte fuori casa se fa duro giustamente non siamo in siena e tutti vorranno farsi vedere quanto di noi però noi piano pianino stiamo prendendo forma stiamo lavorando bene che cosa importante si conosceva marco e che mi piace il calcio è vero di favore diciamo però non conosceva il mister giustamente però non conosceva stupendo sì però è stata una scelta una scelta mia penso che una società importante una squadra importante che ha fatto la Serie A e quando mi hanno detto che c'era questa possibilità ma mi hanno detto subito di sì rimanendo in via rimanendo da questa parte no 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 e ti volevi andare in C io volevo fare un'esperienza in C ma dopo ha successo tutto quello sì sì chiaro però dopo subito ha fatto la telefonata di Siena e non ho trovato due volte ho detto subito di sì sì è stato il primo a ricevere la chiamata e anche io sinceramente non è che ci ho pensato più di tanto devo dire la verità non è che mi hanno chiamato comunque si sono fatti avanti comunque la società e i dirigenti ho accettato subito senza il minimo dubbio mister giudaldino che è mister? è un mister con tanta voglia di fare una grinta incredibile che ci trasmette tutti i giorni lui e anche il suo staff ha un'umiltà pazzesca assurda veramente quindi ci sta veramente insegnando come ci vuole in campo insegnando calce dobbiamo solo che lavorare un'altra settimana a prendere quello che ci dice perché abbiamo solo da imparare eh per me è tanto è tanto sono arrivato qua da quattro anni in Italia che oggi avere il mister che ho e che ha vinto assolutamente tutto lui attaccante averlo e trattare di imparare tutto di lui per me è molto importante come ha detto il mio compagno ha un'amichità è uno che ha avuto così tanto oggi con noi acquai come un attore è tanta roba è tanta roba è un attore è un attore che ci sono